Non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele da qui a quando si voterà, noi vogliamo cambiare l'Italia. E per cambiare l'Italia non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice devi fare questo altrimenti, altrimenti, altrimenti cosa? Non è che se un ultimatum, prescindendo dal contenuto, lo lanci dal papete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda, gli ultimatum non vanno lanciati, perché se no si sfascia tutto. E qui in gioco non c'è solo un'esperienza di governo, qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. E chi mette in discussione, giocando col fuoco, questa esperienza di governo mette in conto di esporre il nostro Paese a un'involuzione di carattere democratico. Grazie. 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 Grazie.